A Benghazi tornano ad affrontarsi manifestanti armati e soldati. Ci sarebbero almeno 11 morti e diversi feriti. Gli scontri avvenuti nella notte davanti a una caserma delle forze speciali libiche sono durati un paio d'ore, secondo i residenti della zona, poco dopo l'assalto ad un'altra caserma dove sono state rubate delle armi. I manifestanti chiedono lo smantellamento delle ex milizie anti-gheddafi che non hanno consegnato le armi due anni dopo la caduta del regime, mentre altre sono state integrate nell'esercito. Stessa richiesta fatta la settimana scorsa, sempre nella seconda città libica, simbolo della rivolta del 2011. 31 persone avevano perso la vita e un centinaio erano rimaste ferite in scontri tra manifestanti e miliziani del gruppo Scudo della Libia, in seguito ai quali si era dimesso il capo dell'esercito. Nonostante la formazione di un governo civile, ampie zone del paese sono sotto il controllo degli ex-ribelli.